Una fase costituente della festa di Gini che non vedrà più quella che è l'impostazione normativa vigente, ma proprio perché una fase costituente deve essere legna dell'ascolto del gestuto collettivo della festa di Gini, quindi partendo dai comunitari si ascolti i vecchi saggi, si ascolti la macchina amministrativa con il punto di riferimento che è sempre di Sant'Antonio d'Apano e la Chiesa che ci deve guidare in questo corso, quindi che si dipendano per fare queste attività, chiaramente poi, diciamo, entro il concursione tra di noi non solo agli armoni, ma il ruolo anche sociale e pedagogico che sta svolgendo con i giovani per questa città è fondamentale, perché una città deve guardare al 1275, ma si deve preoccupare di guardare al 2056, quindi educhiamo i nostri giovani, che sono molto fiducioso, l'amministrazione ci metterà la mano sopra, perché ad esempio da gennaio partirà un percorso musidale all'interno delle scuole dove da dentro in ventico e fotoristico ha quell'aspetto che dobbiamo arrivare da attrappestare, cioè le pietre d'arte, come conoscire vicino a tutti i due che sono la vera essenza della testa. Il Giglio d'Oro viene tardi e notti nel momento giusto, perché è come se fosse, diciamo, un quinto un uomo, finisce la testa, facciamo anche un grande vento e poi da lì basta con il riserciamento, adesso basta lavorare per la mia testa. Grazie a voi. Grazie.